Don Mario, una denuncia su Facebook ha raccontato un episodio che sarebbe accaduto ieri durante la celebrazione di un funerale. Allora, semplicemente le chiediamo il suo punto di vista, la sua verità, che cosa è successo. Posso parlare? Allora, anzitutto mi preme come prima cosa di chiedere scusa per un gesto che è stato improprio e così impulsivo. Va bene, però ovviamente ha la sua motivazione, può capitare a tutti di essere un po' impulsivi. Va bene, perché è una cosa che certamente si è vissuto il modo di pensarci, non avrei voluto fare. Però vi spiego come, e in questo certo riconosco di aver sbagliato, non c'è niente da dire, ripeto, non l'avrei rifatto un'altra volta. Però vi spiego come sono andate le cose. Dall'inizio, che parte dalla notte di Natale. Va bene? Allora, tutti gli anni a Natale noi dedichiamo le offerte dei fedeli alle nostre adozioni a distanza del gemellaggio che abbiamo con la parrocchia della Natività a Betlemme, per aiutare i bambini di Betlemme. Allora era la Trinità, la notte di Natale, ma io parlo sempre così, col cuore in mano. Va bene? E ho spiegato le motivazioni della generosità delle offerte e la loro destinazione. E' capitato che c'è stata una persona che ha messo un centesimo, l'unica. E so chi è la persona e certamente non è un povero. Va bene? Quindi è stato un gesto veramente brutto, dopo quello che io avevo detto. L'indomani, il giorno di Natale, nelle messe, ho riferito questo gesto e allora ho detto che da questo momento ritengo opportuno che un centesimo, due centesimi, cinque centesimi, se uno, è meglio che uno, non le metta perché l'offerta non è dovuta. Va bene? Dopo aver detto questo, va bene, io ho detto alla gente, dico ditemi una cosa. In questo che ho parlato chiaramente, in questo, lo dico molto spesso io quando faccio l'omelia, ho parlato chiaramente, ho urtato la sensibilità di qualcuno, ditemi sì o no? E ci fu un coro di no. E così si è finita l'omelia e nessuno ha detto una parola di rimprovero o di altro. Poi è stata fatta la colletta, fatta la colletta me la portano all'altare, ai piedi dell'altare, va bene? Il primo cestino proprio ci aveva in evidenza questi michelini, uno, due, cinquecentesimi, saranno stati sette, ottocentesimi, non so che, no? Giustamente io mi sono sentito ma veramente mortificato, offeso, umiliato, ma nella dignità dei poveri, non cosa personale, dico come? Vi ho parlato col cuore in mano, vi ho chiesto perfino se per caso avevo urtato la sensibilità che avevo, vi ho detto che se volete potete non dare niente perché nessuno è tenuto e si fa questo. O pensavo tra me, sul momento proprio mi è venuto, e che poi siamo uomini, e l'ho preso e sono andati fuori e li ho buttati. Poi ritornando ho detto, sono rimasto deluso perché avevo parlato col cuore in mano, vi avevo detto se avevo per caso mancato, tu ti avrete detto no, e allora che? Mi avete preso in giro?